Buongiorno a tutti, oggi siamo qui in provincia di Udine per visionare la campagna con il nostro miscuglio Europa, un miscuglio strutturato da due loietti varietà tetraploide, un frumento mutico e l'avena, questo miscuglio verrà praticamente preappassito e trinciato in trincea, seguito da una minima lavorazione e poi verrà fatto del sorgo. Come vediamo, notiamo benissimo che il prodotto è nato tutto, tutto molto bene, troviamo del frumento dell'oietto tetraploide e dell'avena, eccolo, dell'avena bianca mista a nera. Il prodotto risulta essere sanissimo come tolleranza alle malattie, l'accestimento è molto buono, questo miscuglio è stato seminato a 82 kg a ettaro, dose prefissata, in un terreno ghiaioso, quindi in un terreno diciamo molto secco e in più possiamo dire che non si è riusciti a fare una parte della rullatura, sicuramente è seguita una pioggia, però per farvi vedere l'apprezzamento, uno degli apprezzamenti è nato molto bene anche senza il discorso rullatura che andremo a fare tra qualche settimana.